E' un grande piacere prendere la parola a metà del dibattito, perché come sapete non ho fatto né l'introduzione né tirerò le conclusioni, perché abbiamo ancora molti altri interventi importanti che penso tutti voi e io per primo vogliamo ascoltare. Posso dirvi una cosa, che penso che questa assemblea sia la migliore delle assemblee che facemmo con alcuni dei presenti quando mi sono candidato sindaco, ovvero quelle erano ancora un po' immature, erano ancora un po' ruspanti di crescita e invece in una giornata come questa si vede una cosa straordinaria, che se chiudete gli occhi e ci pensate, nel clima di depressione che vive la nostra città, di molti contro molti, va, non era facile soltanto immaginare. Devo dire che i protagonisti di questa giornata sono i partecipanti, cioè è la spinta, la freschezza, ci sono molti capelli bianchi ma ci sono moltissime persone del tutto nuove in questa sala e quindi il merito è vostro e vi ringrazio infinitamente per essere rimasti fin qui e per continuare a rimanere nel seguito di una riunione che avrà i seguenti sviluppi successivi. Usiamo il sito, il portale laprossimaroma.it dove pubblicheremo i risultati della nostra giornata, dove informeremo sulla Costituzione ai gruppi di lavoro, daremo modo a quanti si sono prenotati di parteciparvi e poi convocheremo un altro appuntamento nel quale tireremo le somme prima che inizi la fase della campagna elettorale. Quindi la richiesta, la sollecitazione a tutti coloro che oggi hanno testimoniato che questa città, come hanno ripetuto praticamente tutti, ha risorse, energie, intelligenze, professionalità e fatemi usare questa parola, passione, passione civica che possono tutti insieme permettere di avviare il riscatto nel quale crediamo. Il primo ministro olandese Mark Rutte ha detto ieri che l'Europa rischia la fine dell'impero romano se non trova la sua coesione, se non difende le sue frontiere. Io ho pensato di impiegare una buona parte dei sette minuti che mi sono ritagliato a questo punto per leggervi il brano di uno spagnolo così come interpretato da una franco-belga a proposito di Roma. Lo spagnolo è Adriano, l'imperatore, e la franco-belga è Marguerite Jutsenar nelle memorie di Adriano. Quando visitavo le città antiche, città sacre ma morte, senza alcun valore attuale per la razza umana, mi ripromettevo di evitare alla mia Roma quel destino pietrificato di una Tebe, di una Babilonia, di una Tiro. Roma sarebbe sfuggita al suo corpo di pietra e come Stato, come cittadinanza, come Repubblica. Si sarebbe composta un'immortalità più sicura. La traduzione di una grande romana, Idiastoroni Mazzolani, che è stata scrittrice e grande traduttrice dal latino. Nei paesi ancora barbari, in riva al Reno e al Danubio, sulle sponde del mare del Nord, ogni villaggio difeso da una palizzata di legno mi ricordava la capanna di Canne, il mucchio di strame dove dormirono i nostri gemelli, sazi del latte della lupa. Quelle metropoli future, dice Adriano, riprodurranno Roma. All'entità fisica delle nazioni e delle razze, agli accidenti della geografia e della storia, alle esigenze disparate degli dèi e degli avi, noi avremmo sovrapposto per sempre, pur senza nulla distruggere, l'unità di una condotta umana, l'empirismo di una saggia esperienza. Nella più piccola città, ovunque vi siano magistrati intenti a verificare i pesi dei mercanti, a spazzare e illuminare le strade, a opporsi all'anarchia, all'incuria, alle ingiustizie, alla paura, a interpretare le leggi al lume della ragione, lì Roma vivrà. Roma non perirà che con l'ultima città degli uomini. Questo è quanto vale di Roma nella coscienza del mondo e ciò che Roma rappresenta, nella coscienza del mondo a partire da un dato fondamentale. Sono le città, come è emerso in tanti degli interventi che abbiamo ascoltato, che hanno guardato oltre i confini dei 130 mila ettari del Comune di Roma, alle altre grandi città del mondo, al benchmark, ai riferimenti inevitabili, obbligati, è il fattore città, motore del cambiamento nella storia. E occorre ricordare che Roma avrà degli appuntamenti che fanno riferimento alla sua storia nei prossimi anni. Anche per questo abbiamo detto, stabiliamo un traguardo di riflessione e di proposta gratuita, gratuita alla nostra città, che è il 2025, tra dieci anni, pochissimo, vicinissimo. Tra 20 e 21 ci sarà il centocinquantenario di Roma Capitale. Nel 24 potrebbero esserci giochi olimpici, anche se sarà necessario, cambia tutto nel mondo, ripensare l'approccio che abbiamo ai grandi eventi. Nel 2025 ci sarà il giubileo ordinario, quindi non quello straordinario convocato all'ultimo secondo, inaspettatamente, ma quello 25 annale. Quindi abbiamo davanti a noi delle scadenze certamente che ci interpellano, ma la scadenza più importante, secondo me, è quella che emerge nell'Assemblea di oggi e che abbiamo chiamato, molti hanno chiamato, fattore umano. Le città nella storia sono state determinate anticamente dalla geografia, anche Roma nasce sull'attraversamento del Tevere all'altezza dell'isola Tiberina, ma così Parigi, ma così le città sugli estuari, così le città sui grandi golfi da Napoli a Rio de Janeiro e così via. Poi le città sono nate grazie all'industria, erano fattori di trasformazione, di ricchezza, di sviluppo economico. Oggi l'affermazione delle città risiede nel fattore umano, nella conoscenza, nella gioventù capace di investire sul cambiamento, di creare il cambiamento e sulla saggezza di quanti sono in grado di indirizzare e guidare questi processi. Se qualcuno mi chiede qual è la cosa più importante che dovrà fare la sindaca o il sindaco di Roma possibile, la mia risposta è aiutare a creare lavoro, ovvero sia creare politiche di sviluppo non assistenziali naturalmente, servizi, innovazione, che permettano in un grande territorio che questa città non sia desertificata del lavoro, della produzione, della capacità di creare occupazione attraverso orizzonti nuovi. Tutti i temi di cui abbiamo parlato sono basati sul fattore umano e non c'è lavoro senza fattore umano e non c'è fattore umano se la gente non ha un lavoro. È uno dei temi cruciali per ogni città, per ogni angolo, per ogni metropoli del mondo. E allora la mia conclusione, che è anche una proposta, è invece sul versante civico. Proseguiremo, secondo quello che abbiamo già detto in tutta la giornata, che ho ripetuto nel metodo, diciamo, l'introduzione del metodo stamattina, mi sono interrogato a lungo, partendo da una constatazione sulla povertà della partecipazione alla nostra città. Sentiremo diversi altri interventi importanti, come sono stati quello, ad esempio, dei giovani di Torbella Monache, che si sono presi forse l'applauso più grande di tutta la giornata, forse l'applauso più grande per la loro voglia di riscatto pratico, concreto e la grande chiarezza di intenti. Ne sentiremo degli altri. La cosa su cui mi sono interrogato di più in queste settimane è perché in una città dove, specialmente in molti quartieri della periferia, le uniche lusci che brillano di notte sono quelle delle sale giochi. Una città nella quale l'amministrazione ultima non si è reso conto di quanto fosse gravissimo chiudere il teatro di Torbella Monache. Una conquista di civiltà, una conquista di cultura e un vero presidio, diciamo, faticoso, complicato, civico. Come possiamo, in una città nella quale è vero, lo spazio pubblico viene spesso considerato terra di nessuno, res nullius. Come si fa a dare un segno che invece c'è una riscossa ed è una riscossa partecipata? Allora vi sottopongo un'idea alla quale potremmo, tra le molte altre che scaturiranno, lavorare, che è questa, per configurare e concretizzare questa rimonta. In questa città ci sono tantissime persone che fanno del volontariato, ma lo fanno molte volte nella disattenzione dei propri prossimi, vicini e spesso sotterraneamente. Lo considerano una parte della loro vita, piuttosto che un momento di espressione civica, pubblica. Ecco, la mia riflessione che vi sottopongo, e ne ho parlato con gli amici che rappresentano il terzo settore, ma proviamo con Sergio ad approfondirla e a svilupparla, è questa. Perché non creare a Roma e fare di Roma la prima città al mondo che istituisce una settimana civica nella quale viene chiesto a ciascun cittadino di dedicare una giornata alla comunità, una giornata gratuitamente al servizio della propria città. È una cosa che non si deve fare in modo assistenziale. Non basta spazzare la strada davanti a casa propria, non basta naturalmente immaginare di sostituire il servizio che svolgono e debbono svolgere le istituzioni pubbliche, non basta l'idea che ci si debba sostituire a chi fa l'azione del volontariato organizzato terzo settore privato sociale, perché anzi sono la struttura su cui potrebbe poggiare un'iniziativa del genere, ma pensate se noi preparassimo nel corso del 2016 per affidarla al nuovo sindaco o alla nuova sindaca una giornata all'interno di una settimana in cui io scelgo di dedicare a domenica, ma qualcuno può farlo il lunedì, il martedì, un altro giorno infrasettimanale, occuparci e dedicare una giornata intera, centinaia di migliaia di romani al settore dell'ambiente, del decoro, della cultura, del volontariato sociale e fare di Roma la città che si è segnalata nel mondo per mafia capitale, per la corruzione, per gli scandali, per la sfiducia, per la disintegrazione percepita soprattutto nei grandi quartieri popolari che sono diventati piccoli quartieri popolari nel senso di questa dimensione etica, civica, partecipativa, farne la prima città al mondo che stabilisce una settimana civica di Roma alla quale partecipino in modo organizzato dalle associazioni del terzo settore del volontariato, dai comitati di quartiere e in modo coordinato con la nuova amministrazione, perché non ci sarà tempo da perdere, ci sarà soltanto da realizzare qualcosa che funzioni e funzioni nell'interesse di tutti, ecco potrebbe essere il segnale di una rimonta partecipativa straordinaria e io credo potrebbe essere quella notizia al mondo che fa scuola su una Roma che torna a scoprire le sue virtù anziché a scoprire soltanto le sue magagne. E io penso che se ci fossimo, se ci vogliamo lavorare in associazione alle grandi visioni strategiche che sono uscite in queste ore di discussione e che ancora usciranno, sullo sviluppo urbano, sulla capacità economica e produttiva, sul riordino urbanistico, sul funzionamento dell'amministrazione pubblica, sui servizi, sulla smart city intesa come riorganizzazione tecnologica e partecipativa dell'intera vita della città, non solo l'utilizzo individuale del nostro iPhone, del nostro smartphone che teniamo in tasca e tutti gli altri grandi temi dall'ambiente alla mobilità, ne parleremo tra poco, la cultura, al turismo, al sociale, su tutto questo noi daremo un contributo a chi verrà a proporsi come sindaco di Roma ma gli daremo anche un dono in più, io penso, cioè la capacità di organizzare una settimana in cui ciascun romano avrà delle proposte alle quali dedicarsi, non solo sentendosi utile ma essendo utile e partecipando ad un desiderio di presentare al mondo una città che pensa agli altri pensando a se stessa. Credo che questo può aggiungersi alle proposte che noi abbiamo avanzato, penso che di proposte ne faremo tante ma che sopra a tutto ce ne voglia una di parola ed è rivolta a voi e viene dal profondo del cuore ed è grazie.